In diretta questa mattina sul banco degli imputati abbiamo Synthesis Roma, azienda italiana più precisamente a Morrovalle che è molto famosa soprattutto per la produzione di amplificatori valvolari. Qui sul banco abbiamo i due forze amplificatori più famosi e più conosciuti nel nostro negozio, il Synthesis Roma 510 AC, 1999 euro, e il modello superiore appena uscito, versione Signature, da 2.900 euro. Ma bando alle ciance, voce subito all'ingegnere. Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare quelle persone che mi hanno scritto personalmente, che hanno chiesto delle cose con cui ho interlocuito sulle trasmissioni che abbiamo fatto le altre volte. Ciò dimostra un certo interesse di un pubblico abbastanza, a me caro, perché è veramente interessato ai concetti della tecnica più che altre cose. Dopo questa piccola premessa premetto che io ho da due anni questo amplificatore a casa mia, il Synthesis Roma 510. L'ho messo in mezzo a tutti gli altri impianti, però insomma c'è una sua nicchia particolare e l'unico valvolare che ho in casa per avere proprio un continuo termine di paragone di quello che può essere un amplificatore a valvole visto oggi rispetto a quelli a transistor che sono il 90 e passa per cento della totale produzione di i-fi di questi giorni. Sì, questo per dire che Giuseppe non ha solo dei Macintosh, perché l'altra volta sulla sulla chat c'era di parte, non di parte, anche qualcos'altro. E questo io quando l'ho presi, la prima volta lo ascoltai qui in audiocostruzioni e mi colpì effettivamente il modo in cui suonava, cioè proprio il suo, come dire, il suo feeling, il suo tono, mi colpì, lo comprai, lo portai a casa e l'ho ascoltato abbastanza direi. Quindi lo conosco abbastanza bene proprio per un'esperienza personale di qualche anno. E posso dire che a mio parere suona veramente bene, cioè c'è quel tocco dato da quella valvola che viene utilizzata, la KT88, che è una valvola americana proprio nel vero senso della parola, e anche se costruita ai giorni d'oggi non più dalla General Electric, che era quella che l'aveva l'aveva fatta per prima, ma da altri costruttori, che possono essere quelli russi, la Harmonix, in particolare quello che ho a casa io, c'ha le valvole della Harmonix, evidentemente le valvole venivano dalla Russia senza grossi problemi e usavano le Electro Harmonix, queste qui. Ci sono anche le Svetlana, altri tipi di valvole che sono... Giusto, due cose commerciali. Sono prodotti questi qua che erogano 80 watt, ok, in classe AB, e hanno un costo di listino molto più alto, cioè abbiamo fatto degli accordi con i produttori, ne abbiamo presi parecchi, quindi il prezzo si è abbassato vertiginosamente, no? Parliamo di oltre 4.000 euro per questo, oltre 5.000 per il modello Signature. È sicuramente un amplificatore che ha fatto la storia anche di audiocostruzioni e noi, diciamo, l'abbiamo portato a conoscere in tutta Italia, ne avremo venduti almeno 150 pezzi di questo qua, del 5.10 e adesso siamo all'inizio con il modello Signature che poi dopo De Palma ci spiegherà quali sono le evoluzioni. Comunque è un ampli classico lineare, no? Mi spiego meglio. Solo entrata linea, no? Uscita pre-out, perciò molto semplice. Molto bello il telecomando, purtroppo non l'abbiamo qui da far vedere, però tutto in alluminio, fresato dal pieno, un bel oggetto. Il Signature è stato in evoluzione e adesso ci sei la parola sulla differenza, diciamo, del... Ieri sono andato a rivedermi un attimino, gli ho aperto la pancia così come abbiamo fatto con questo. Sì, per vedere un po' se c'erano. Infatti, no, l'ho fatto anche una fotografia perché... Ah, bravissimo! Perché altrimenti quell'altro non è aperto, per cui questo è quello che c'è nella pancia del 5.10, e questo lo vedete dal vero nel 5.10 Signature. La differenza qual è? Le valvole sono, secondo me, la cosa che ha un pochino dato una marcia in più al Signature. Perché? Pur essendo delle KT88, queste Harmonix non sono così ben suonanti, a parte poi qualche differenza che potrebbe aver fatto anche nei trasformatori. Però non credo, perché li ho visti proprio esattamente uguali, se non che hanno aggiunto dei connettori, no? Quindi qui c'è scritto REV A, revisione A, qui non c'è scritto così. Perché? Perché penso soprattutto qui non c'erano i connettori, era tutto saldato, qui invece hanno messo i connettori, che è una soluzione più elegante, più pratica in caso di manutenzione, in caso di dover sostituire, se mai ne fosse... ci fosse una necessità a qualche pezzo. Qui si vede che erano stati previsti i posti per due elettrolitici in più, qui il master è stato rifatto, sono rimasti quattro elettrolitici, che poi in un valvolare non c'è bisogno di questi condensatori così grandi come nei transistor, perché se uno vede gli elettrolitici di un valvolare, dice qui hanno risparmiato. No, non è vero. Cioè, sono più che sufficienti, con un filtro RC, si riesce a spiattellare, perché, come sappiamo, il valvolare, più che contare sulla corrente, conta sulla tensione. Quindi si può sfruttare la tensione alta per avere una riserva di energia, cosa che nei transistor ci vuole la corrente. Per avere la corrente ci vogliono i condensatori grossi. Ed ecco perché, ma come sono così piccoli, sono più che dimensionati bene per questo tipo di applicazione. Nelle valvole parliamo di milliampere, no, che scorrono nei tubi. Nelle transistor parliamo di diecine di ampere. Ah, ok. Quindi la differenza è sostanziale. E qua non è la differenza. Esatto. Quindi è stato rifatto il master. La vetronite che vedete qui, e sono cose oggettive, non perché lo dico io o un altro, è estremamente robusta, perché le valvole scaldano, e scaldano parecchio. Quindi questa dilatazione termica che c'è, tutte le volte che uno lo accende e lo spegne, deve essere supportata da un sostegno meccanico. Una volta si facevano le basette di acciaio inox, no, si foravano e adesso si fanno di vetronite. Tutte le valvole sono sui loro zoccoli ceramici, che anche questa è una bella differenza, no, fra avere uno zoccolo di plastica e uno ceramico. Sempre per quella faccenda della temperatura. E la vetronite è veramente di spessore notevole, no? Questo vuol dire che la costruzione è sana, è robusta meccanicamente, al di là del ferro, al di là dei metalli, c'è anche la vetronite, che è una signora vetronite. Al di là del coprimento, che il colore può essere di qualunque colore, ma è proprio molto robusta. Le piste sono molto ben dimensionate. Tra questo e quello si vede che è stato migliorato, perché nella prima serie, questa qui, c'erano delle basette per la polarizzazione delle valvole. Queste basette sono state eliminate e sono state messe direttamente sul circuito stampato. C'è il raddrizzatore per l'eccitazione, no, per il riscaldamento dei tubi, che è uno dei pochi che hanno i tubi alimentati con la continua. Solitamente si va il filamento 6,3 in alternata. Sì, in alternata, perché si risparmia qualcosa, però magari porta dentro... Tutto quello che non c'è non costa e non si rompe. Però porta dentro di solito un filino di rumore in più. Lì prima c'era una basetta e adesso il progetto è maturato, ecco la differenza, no? È maturato ed è stato effettivamente implementato anche questa parte di circuiteria sulla scheda madre. Poche schede. Una, due, tre. Questo cosa vuol dire? Non ce n'è 18, come in altri amplificatori. Ce ne sono tre. E questo è un grosso vantaggio. In modo da avere pochi collegamenti filari, poche possibilità di interferenza. Tutto ciò che è semplice lavora meglio rispetto a una cosa complicata. Per cui è effettivamente un passo in avanti rispetto a questo che è nato tre, quattro anni fa. Il famoso detto cablato in aria. Si può dire di questo? No, questo non è cablato in aria. Perché oggi cablare in aria vorrebbe dire, per costruire un oggetto del genere, metterci un operaio come minimo tre giorni. Avrebbe un costo proibitivo. Uno fa la sua scheda. Ecco perché il convergente costava. Sì, perché se io devo saldare questo condensatore, questa resistenza, quest'altro condensatore, devo mettere tutto sto ragno interno. Si è aprito un amplificatore di 20, 30, 40 anni fa, che non c'erano ancora, 50 anni fa, non c'erano ancora i circoli che è stampati. No, si faceva tutto in aria. Anche adesso dopo, mi dispiace non averlo aperto, però anche Mingda, quello là che vedete la nero, è tutto cablato in aria. Perché i cinesini hanno la mano d'opera a prezzi più bassi e riescono a mettere la donnina. Non c'erano fare lavorare un cinese tre giorni che fare un circuito stampato. È una questione di costi. Che poi sia più affidabile quello in aria dipende anche da quello che fa le stagnature. Perché quante volte viene una stagnatura fredda? Fattane una per una le stagnature. Se quello che magari si va a fumare una sigaretta, l'operaio poi torna, c'è ancora lo stagnatore, non a posto, continua a saldare, quelle saldature non sono più quelle. Mentre in una scheda elettronica tu fai una saldatura ad onda, si mette tutta la scheda all'interno di una macchina speciale che li salda tutti uguali. Sai che non lo sapevo questo? Pensavo che ci fosse anche l'ilumino, invece no. Io invece l'avevo visto su come è fatto. Ottimo, ottimo. Cioè nessuno oggi è tanto, come dire, incosciente da mettere una persona a saldare tutto quanto. Perché ripeto, ogni saldatura, avete mai visto uno che salda e poi soffia sopra? Quella è la bestialità più grossa che si possa fare. Viene una saldatura fredda. Dai oggi che dai domani, dilattazione, contrazione, questa saldatura comincia a non essere più quella che è. Benissimo. Tanto è vero che poi questi, forse giustamente, sono passati dai trasformatori saldati sulla scheda, come si vede qui, sarebbe la pancia di questo signore qua, sono passati i connettori. Perché nella crimpatura c'è un sistema che ti garantisce quando la pinza di crimpaggio si chiude, è chiuso. Non è saldato. È chiuso. E va lì e da lì. E dà una certa affidabilità. Ma se devi affidarti al componente singolo, uno per uno, uno per uno, ho comprato l'altro giorno un microfono a mia figlia che insegna a scuola, no? Siccome i ragazzini fanno un casino della madonna. Gli ho comprato un microfono e un amplificatorino da mettersi al collo, cinese, l'ho preso in internet, è arrivato. Dopo due giorni si è rotto. Sapete perché si è rotto? Bestemiato perché l'ho comprato un uomo, adesso lo devo mandare indietro. No, l'ho aperto. Tanto, l'ho pagato 50 euro, se anche lo finisco di rompere. Cos'era successo? Si era dissaldato un filo che va all'altoparlante. Non funzionava più niente. L'ho risaldato, l'ho ridotto. Quindi una cosa semplicissima. Questo per dire l'inaffidabilità dell'omarino che costa poco, ma tanto vale. Può anche sbagliare. E quindi è meglio avere la saldatura ad onda. Si vede queste stagnature, sono tutte uguali fra di loro perché è tricked. Poi uno può dire, io lo posso fare anche a mano comunque. Però sulle schede elettroniche è meglio avere come criterio industriale questa saldatura ad onda. Sono state fatte piccole modifiche. Questi diodi sono stati aumentati, ho messo in parallelo tanti diodi. Qui ce n'erano solo due. Qui ne hanno messe cinque. I fili li ha colorati. A prova, di solito il marrone porta la positiva, il blu e il nero lo zero o la negativa. Quindi mettendo i fili, qui tutto nero, mettendo il colore, ha migliorato proprio l'ergonomia di montaggio. In più, ed è questo l'ultimo improvement, diciamo, il miglioramento di questo rispetto a questo qui, hanno aggiunto un ingresso Fono e un ingresso XLR. Molto saggiamente il progettista, che si vede che è uno che è del mestiere, ha messo l'amplificatore Fono e l'XLR, il differenziale, su una scheda particolare, separata da tutto il resto, come era prima e anche adesso, ma questa è diventata più grande, perché ha dei componenti in più. E intelligentemente sono stati messi tutti attaccati ai connettori. Cioè il percorso dal connettore all'amplificatore è praticamente nullo, sarà un centimetro di pista. Sì, quello l'avevo visto anche nel Copland, l'integrato della Copland, che ha la sezione pre addirittura a valvole. Ce l'ho avuto anche il Copland. Ce l'ho avuto anche il Copland. Me lo sono comprato e te lo riportavi. Mi ricordo che era da questa parte, adesso, ed era molto molto vicino. Hai fatto bene a farmelo notare. Contrariamente a qualche furbacchione giapponese che mette i connettori qua e la scheda analogica qui davanti. E ci siamo capiti. Quindi questo è fatto veramente bene da una persona che sa quello che fa. Allora, lì entro il discorso commerciale, ma Ruffo lo sa. Sintesis, produttore italiano, non artigiano. Cioè è sempre stato un'industria. Lavora da quanto? 40 anni, non lo so, i primi. Ha sempre avuto questa particolarità qua del colore rosso. Guardate là, per esempio, c'è un prefono della Sintesis della prima serie. Quello là avrà 20 o 30 anni, 20 anni, non lo so. Lavoravano sempre con questi colori particolari. Rosso, nero. E hanno naturalmente continuato per dire che è un'azienda che lavora da tanto tempo. Adesso è entrato un socio, non vi sto a dire chi, con del denaro. L'azienda ha ancora fatto un salto di qualità. Quindi sono usciti questi ultimi prodotti qua a prezzi stratosferici che non so se riusciremo a mantenerli. Comunque per ora sono quelli. E si è visto un veramente salto di qualità. Non ne fa 1, 2, 3, 5. Ne fa 150 alla volta perché gli ordini che facciamo anche solo noi sono di quell'entità lì. Quindi parliamo di azienda molto, molto seria. Certo. Faccio una piccola... Un piccolo fermo. Intanto va bene. La volta scorsa abbiamo fatto il record di ascolti. E spero che anche questa volta con addirittura l'ingegnere di nuovo sbanchiamo. E vi ringrazio perché ci seguite. Ci fate tante domande sulle... Ma l'ingegnere può fare questo, può fare questo, può fare quest'altro. Benissimo. Con De Palma cercheremo di lavorare continuamente. Diciamo... Sempre alla stessa maniera. Ma purtroppo noi cercheremo di far vedere i prodotti che vendiamo noi. Ragazzi, noi non siamo un ente di beneficenza. Non siamo la Ferragni. Ok. Che diciamo... Che facciamo bene ai bambini. Noi cerchiamo di far del bene anche a voi che vi diamo un'informazione. Ma anche a noi che vendiamo qualcosa. Perché se no finirebbe tutto. Ecco. Va pure. Anche perché possiamo aprire le robe che abbiamo. Io non posso andare ad aprire l'amplificatore che vende un altro. Ma parlami del sagge. Non li trattiamo. Sono prodotti straordinari. Non li trattiamo. Parlami del coso. Facciamo quello che possiamo. E non si può avere una conoscenza di tutto quello che esiste. Se lo vedi lo puoi interpretare. Anche perché di questi oggetti qui non ci sono gli schemi in giro. Per esempio, se tu hai un'altra marca di un qualcosa vintage, trovi su internet tutti gli schemi di questo mondo. Con lo schema capisci tutto. Chi lo sa leggere ovviamente. Qui non c'è lo schema. Allora, te lo devi un attimino. Anche perché non glielo andiamo a chiedere. E' una cosa che giustamente è tenuta segreta. Però da come poi viene implementato. Ed ecco perché io parlo sempre di oggettività. Cioè quello che si vede è quello che si vede. Non quello che ti raccontano. Quindi se tu hai fatto una modifica. Uno che ha esperienza di progettazione. Capisce perché l'hai fatta. Può essere d'accordo. Può essere non d'accordo. Ma si vede che c'è del mestiere. C'è un'ingegneria. C'è un signore. che si mette lì più persone più che altro. Perché poi non è solo una persona che fa un'azienda. Ce n'è uno comunque che si vede che al telefono ci vuole stare poco. Perché c'ha sempre la testa. Tu gli telefoni per un qualche cosa. Vuole mettere giù. Lo capisco perfettamente. Perché i primi anni della mia attività lavorativa. Io facevo il progettista. Allora mi chiamavo il commerciale. E mi chiamavano. E mi spacca Maronano. Vieni concentrato per altre cose. Cercavo di non farmi trovare. Uguale anche. E beh sai. Bisogna essere concentrati. Perché se mentre stai pensando una cosa. Magari sei vicino alla soluzione. Ti chiama uno. Ah c'è uno che. Perdi tutto. Dopo devi ricominciare da capo. E perdi quell'idea che in quel momento ti stava venendo bene. Esatto. Bene. Vedo da dietro così. Andiamo avanti un attimo sulla descrizione. Che l'entrata fono di questo oggetto. Ha sia la sezione MC che MM. Quindi accetto sia alta uscita che bassa uscita. Addirittura gli hanno messo alcuni diciamo sui cettini. Per andare a trovare la calibrazione migliore in base. Soprattutto per l'MC. Questo è importante. Naturalmente. Perché l'MC come come sappiamo. Dà un segnale estremamente flebile. Sarà anche più fedele. Segue di più la traccia. Però dà un'uscita che parliamo di mezzo millivolt. Sì. Ecco perché devi stare vicino al connettore. Perché se questo mezzo millivolt gli fai fare mezzo metro. A parte il mezzo e il mezzo. Quando arrivi in fondo diventa mezzo millivolt di segnale. E tre millivolt di rumore. Cosa amplifico io? Sì sì sì. Quindi hanno messo lì anche il coso. Va detto che anche in tanti pre-fono. Di buona qualità. Fanno proprio quel sistema lì. Di mettere gli sui cettini all'ingresso. Sì perché si tritano la capacità. I picofarad. Che ti dice poi il costruttore della testina. Questo è meglio. Quindi la linea deve essere adattata. Questo ti fa capire quanto è critica la trasmissione. Assolutamente. Ma questo è un argomento un po' diverso. Ecco poi apro e chiudo. Naturalmente il produttore della testina ti dice qual è la migliore configurazione che devi usare. Poi c'è l'orecchio. Perché molti ci dicono ma cosa devo mettere da sinistra? Io gli dico il cliente. Guarda prova. Tanto non succede niente. Se tu hai un MC. Lo apri. Esatto. Tu puoi switchare mentre suona. Senza problemi. Trovi il suono migliore che ti piace a te. E poi dopo sei già a posto. Senza tante diciamo. Infatti poi sono pochi quelli che vanno a comprare un MC. Sì perché un MC è la più economica che c'è insomma. Non scendi sotto i 500-600 euro. Sì di solito. Una buona testina. Un MM anche con 150-200 euro. Prendi un buon prodotto. E poi ci vuole veramente il solito orecchio fino. Per apprezzare tutte queste belle cose. Comunque questo è un discorso che volevo fare per questo amplificatore. E' stato fatto il meglio che si poteva in questa classe di prezzo. Con questo tipo di layout. Per avere anche un ingresso fono. Io ho questo qui. Ci ho messo esterno. Sono stato obbligato a mettere un amplificatore. Un prefono esterno. Un prefono esterno. L'ho preso anche qui. Il project. Il DS8. Sempre a tubi. Ma visto che ci siamo, secondo lei, è meglio un prefono, non so, magari dirò una cavolata, io non sono un intenditore del vinile, ecco. È meglio un prefono? Perché dicono tanti che è meglio il prefono esterno. È vera questa cosa? Diciamo che in parte può essere vera. Perché esternamente tu hai la possibilità, è un apparecchio grande così, un prefono a valvole con le CC83 o 12AT7, che dir si voglia. Perché valvola e valvola, insomma, io ci tenivo ad avere la catena totalmente. analogica, cioè il giradischi è analogico, il prefono è analogico con le valvole e lui ha le valvole. Poi ci sono le casse, festa finita. L'ho comprato, l'ho pagato 800 euro, a suo tempo, il DS8 a valvole, perché la project fa anche quello transistor. L'ho preso a valvole. È un oggetto che ha quel prezzo lì. È chiaro che dove lo metto io uno scatolotto del genere qui dentro? Non ci sta. Al di là della carrozzeria, ma proprio la scheda non ci sarebbe stata. Quindi è stato fatto un ingresso Fono con dei componenti in parte discreti, in parte integrati. L'ho visto qui sotto mettendo uno specchietto, si vedono i ragnettini. Questa è una scheda SMD con alcuni fori passanti. Con lo specchio si vede ed è a stato solido. Anche perché qua valvole non ce le avresti messe, non si andavano neanche un po'. Però posso dire... Ricordo un integrato della Master Sound enorme, un metro di larghezza. L'845. Sì, quello lì. L'ho avuto. L'ha avuto. L'ha avuto. L'ho avuto, classe A. Eh, quello lì. Il problema è stato portarlo dove ho la camera IR. In tre, eh? Cioè due non bastano, non ce la fai, perché pesa 60 kg. Ma io ho tirato giù il mio Mark Levson che pesa 62 kg da solo. Eh beh, no, Marcello. Vai in campionati di sollevamento peso. È un corretto, no, è una volta. Io se lo faccio adesso, dopo non mi alzo più. A parte che non ce la faccio proprio. Ma a parte quello, direi che sì, la domanda era pertinente, ma posso dire, l'ho provato, perché ho fatto anche dei filmati, Schmas, Rappoi, l'ho fatto dei filmati, li ho mandati a Filippo, li ho provati con le casse che ho a casa, due tipi di casse. Ecco, questo volevo aggiungere. C'ho le monitor audio, le gold, che ho preso qua, e bass reflex accordato e tutto, funziona molto bene. Poi c'ho delle casse autocostruite, fatte da me. Ad alta efficienza, immagino. No, sospensione pneumatica. Ah, però. La differenza qual è? Nei bassi, siccome questa valvola qui è molto ricca nei bassi, se tu hai un bass reflex, in certe condizioni sembrano addirittura un po' eccessivi. Non ci sono regolazioni di tono. Un altro pregio di questo amplificatore, pregio perché? Perché non ha circuiteria in più che puoi toccare, non toccare, compagnia bella. Qui c'è solo il volume, festa finita. Un'ottima filosofia secondo me, soprattutto in un valvolare, perché si snatura un po'. Sono pochi i valvolari, se vedete in giro, che hanno le regolazioni di tono. Sì, sì, sì. Sono veramente pochi. Quello forse, mentre sugli altri apparecchi a me piace molto la regolazione dei toni, perché il transistor è cattivello, devi aggiustarlo. Sul valvolare, già che c'è sempre qualche problema, o meglio, sempre, molte volte ti prende dentro qualche segnale, qualche cosa, più accrocchi gli vai a mettere, più è facile. Ma non solo, siccome la valvola di suo ha un'enfasi, no? Sì, sì, sì. Allora, sulla sospensione pneumatica, essendo attenuta pneumatica, c'è il basso che è molto ben più frenato. E questo ti compensa anche il fattore di smorzamento, che in un valvolare non è eccezionale. Perché hai sempre un'impedenza di uscita che non può mai arrivare ai pochi ohm di un transistor. C'è il trasformatore, c'è... Allora, il coefficiente di smorzamento non è così... Ma questo per tutti i valvolari, non perché lo faccia lui un altro. Forse, magari, sono meglio i single-handed, perché lavorando con una sola valvola... Però il single-handed c'è un altro problema, che io ho dovuto aumentare il contratto con l'Enel. Ah, ok. Perché il single-handed, anche se tu la musica non la suoni, non la fai suonare, cioè basta che lo accendi, tu vedi, le lampadine vanno giù. Ma no, 500 watt, c'è un misuratore, un kilowattmetro mio personale, l'ho attaccato lì, insomma, ma quanto consumo questo qui? 500 watt senza suonare. Vi faccio vedere, Filo, un single-handed, così la gente capisce. Questo, per esempio, dell'aminità è un single-handed, cioè una valvola sola per ogni canale, una valvola di potenza, dico bene, ingegnere? È un triodo, un triodo, praticamente, che è l'ideale per farlo lavorare in classe A. Infatti, quello è un amplificatore in classe A, scalda come una stufa, infatti io usavo il classe A solo d'inverno, perché d'estate mi andava in crisi il condizionatore. Mentre il Roma è un push-pull, quindi una valvola che spinge, una valvola che tira, riescono a tirare fuori più corrente. Non hai mai tanta tensione e tanta corrente insieme, visto che la potenza è il prodotto fra corrente e tensione, se sono tutti due alti, è alta anche la potenza. E questo già nel punto di polarizzazione ha zero segnale. In più, vai a sfruttare il tratto lineare in classe A, quindi è importantissimo il bias, andare a cercare il puntino, lo devi far scaldare mezz'ora, perché se fai il puntino quanto è freddo o dopo cinque minuti... Ecco, a proposito di bias, tutti gli amplificatori hanno la regolazione dei bias, alcuni l'hanno addirittura esterna, come in questo caso di un prodotto cinese che ha la regolazione... Sì, fatto per gli amatori. Esatto, con il cacciavitino da fuori, mentre il nostro ROM, mi facevi notare prima, che aveva all'interno... Un bias qui. Attenzione, molto bello, perché ha dei multigiro. Questi trimmer sono dei multigiro, quindi hai una sensibilità, dieci giri, per fare una taratura perfetta. Alle volte mettono il bias con un potenziometro, con un unico giro, un po' di più, un po' di meno, scattati qua, scattati là. Mentre in una B non è così critico, puoi anche cambiare le valore e fregartene. Qual è l'unità di misura al tuo orecchio? No, è un multimetro digitale. Tu vai a vedere qual è la corrente a riposo. Il costruttore ti dice, questo amplificatore, in questo punto, il TP1, il TP0, deve avere massimo 40-50 millivolt. Allora tu vai lì, giri, giri, quando leggi 40, dopo averlo scaldato ben bene, hai fatto la taratura del bias. Non è una cosa difficile, ma bisogna saperlo fare. Se ne intendo, uno fai da te. No, è meglio, è meglio. Scusa Filo, visto che sono già passati quasi 40 minuti, così in un attimo, c'è qualche domanda per l'ingegnere? Stiamo rispondendo, mentre andiamo, alla fine stiamo trattando più o meno tutti i punti delle domande, quindi possiamo andare avanti a ruota libera. Farò io una domanda allora, non è una domanda mia, perché sicuramente lo dico già in partenza perché verrò lapidato, sicuro. Tempo fa avevo letto qualcosa riguardo ai valvolari. Questo tizio qua, non farò il nome, c'è in una forma abbastanza conosciuta, aveva fatto una recensione riguardo ai valvolari. Lui sosteneva che i valvolari, secondo la sua teoria, non sono, è un praticatore, di alta fedeltà. Adesso vado a spiegare un attimo la sua teoria. Perché secondo lui i valvolari, siccome hanno, come posso dire, molto distorto, hanno molta distorsione. Esatto, esatto, hanno molta distorsione, quindi più distorsione, io sto dicendo quello che mi hai detto lui, a me è sembrata una cosa molto strana. Hanno più distorsione, quindi più distorsione, meno qualità in confronto. A me le donne bionde non mi piacciono. Esatto. Perché sono bionde e mi piace l'amora, perché l'amora mi ricorda, che ne so io, mia madre, perché un'altra fidanzata che avevo prima. Esatto, quindi c'è un po' di diritti. Sono tutte cose soggettive. Cioè, se io devo dire quello che mi piace di più, io non sto dicendo quello mi piace di più, quello di meno, io sto obiettivamente cercando di analizzare le cose dove ognuno poi si può fare la sua idea. Ed è questo importante, l'oggettività. Ho portato con me, per rispondere, ho portato con me un libro che ha la mia età, è stato fatto nel 1952, esattamente l'anno in cui sono nato io, non è che l'ho studiato, ho appena nato, però dopo vent'anni che sono andato all'università mi sono studiato i principi della valvola termoionica del Tio, e quel signore che dice che questo non è alta fedeltà, perché distorce, perché, io lo invito a leggersi, non dico questo perché non lo trova in giro, ma va a comprare in libreria un qualunque libro. Ma anche su internet, cioè volendo. Ma sì, volendo, oggi in internet c'è tutto. A me è sembrata una cosa molto strana, però ho detto, boh, questo qua sosteneva in base ai suoi studi, cioè che i transistor hanno meno distorsioni, cioè quindi sono più fedeli al suono. Siamo un tipo di distorsioni diverse. Esatto, esatto. Allora il discorso non è questo distorce e questo non distorce, perché sono dispositivi non lineari, cioè la valvola, il transistor, il MOSFET, il J-FET unigiunzione, sono dispositivi non lineari. Cosa vuol dire non lineare? Che io non posso tracciare una retta e dire questa tensione mi dà questa corrente, sempre e comunque, qualunque sia la frequenza, qualunque sia il carico. Il tubo viene pilotato in tensione, prima lo accennavamo, no? Che quindi si lavora con poca corrente e molta tensione. Quindi lo spettro della distorsione è diverso, ma non vuol dire che questo ce l'ha e il transistor non ce l'ha. A parte il fatto che poi bisogna vedere tante cose, perché oltre a questi componenti non lineari ce ne sono tanti altri messi insieme, per cui la distorsione si va a misurare facendo il confronto, un distorsimetro fa il confronto fra quello che entra e quello che esce, no? Siccome nulla si crea, nulla si distrugge, si vede se quello che entra è un puro tono sinusoidale generato da un generatore di funzioni e in uscita tu hai un certo spettro di armoniche, facendola trasformata di Fourier, no? Perché andiamo un pochino nel difficile, invece che nel dominio del tempo, vai nel dominio delle frequenze, è un diagramma tridimensionale. Tu hai le ascisse, c'hai un certo parametro, le ordinate ne hai un altro, nella profondità c'hai il terzo, la frequenza, quindi lo spettro di frequenza che non è quello che vedi, quelle sinusoidiche che vedi nell'uscita, ma vedi le componenti armoniche che ci sono in quel segnale. Vai a vedere un valvolare, c'ha la distorsione, c'ha la seconda armonica, non ha la terza perché si elide nel trasformatore, che nel transistor non c'è, o c'è, ma dipende dall'amplificatore, e quindi hai un timbro, una cosa, che alcune armoniche mancano e altre sono presenti. Allora si dice che la seconda armonica non dà fastidio, ma la terza lo dà. Cosa vuol dire? Anche lì è molto difficile dividere la soggettività dall'oggettività. Qual è quella che mi dà più fastidio, Ruffoni? La seconda, la terza, la quinta, la settima o la nona? Allora se uno dice, a me la bionda non piace, tu ti devi dire perché non ti piace? Non basta che non mi piace e basta, perché lo dico io e lo dico io. Comunque, tornando alla distorsione, si sa che i valvolari lavorano con delle distorsioni molto alte, a livello di percentuale, cioè anche il 2, il 3%, mentre i transistor lavorano al 0,0, addirittura i giapponesi circa. Però, se ci pensate, quando suonano gli strumenti, no? Il basso, è tutto distorto, ma è il suo bello. Aspetta, io ho a casa, voi conoscete la Marshall? Esatto, esatto. Quella che sta nei palchi, no? Marshall. Poi c'ho anche un piccolino lì, un Fender. Fender e Marshall, mio figlio suona la chitarra, la Stratocaster o la Gibson. Allora, lì si cercava la distorsione. Anzi, addirittura c'è un pedale distorsiometro. Poi c'è addirittura una molla che ti fa il riverbero, una molla meccanica. Allora, lì la valvola era sfruttata proprio per distorcere. Io voglio che distorsi. Anche perché la maggior parte dei chitarristi oggi, se vogliono gli amplificatori, ha valvole? Sì, ma quando... Se vieni a casa, ti faccio vedere un Marshall da 300 watt, che ho dovuto mettere gli attenuatori, se no... Quindi andare a dire che la valvola non è i-fi, non è i-e, non è... è un po' una cosa grossa. A me sembrava... Qua ci sta tutto, io rispetto la... cioè, se questo signore qua non vuole andare a volare, io non dico niente. Però sappiate che anche chi produce musica, la distorsione dalla valvola la vuole. Ecco. Certo, perché in certe condizioni, ma lì non siamo nell'i-fi. Cioè, tu un tubo lo puoi usare in un modo oppure in un altro, polarizzandolo opportunamente, facendo certe reti tutti intorno. Il Marshall, io non mi sognerei mai di mettere il mio Marshall attaccato al mio pre e sentire il Marshall all'alta fedeltà. C'ha quattro coni grossi così, no? La parte cassa, quella inferiore. Questi qui devono andare, devono respirare con la distorsione che mi chiede l'artista. L'artista ha tutti i registri, ha il pedale per sceglierli. Allora, se io progetto un amplificatore perché distorca, questo non vuol dire che il tubo per sua natura distorca. È perché io lo voglio sfruttare per fare quello. Quindi distinguiamo l'applicazione Hi-Fi dall'applicazione palco e musica, che uno deve fare casino in mezzo a una piazza o in uno stadio. È tutto un altro discorso. Ricordiamoci Woodstock, no? Dove c'erano gli amplificatori di... Non lo voglio dire. Faccio una domanda io. Alla luce di tutte queste considerazioni dell'analisi che abbiamo fatto di questi prodotti Sintesis, considerato il prezzo, diciamo che è un costo commensurato a quello che offre. Assolutamente sì. Vi posso dire che io mi aspettavo un oggetto del genere, se lo prendi dalla Copland, lo paghi il doppio. Se lo prendi da un altro, tanto lo paghi? Questo ha fatto veramente un rapporto qualità-prezzo ottimo. Ed è quello che forse può concludere un po' questa mattinata. Cioè quello di dire, io per 2.900 euro compro un oggetto dove ogni euro l'ho speso bene. L'ho speso bene. Qui non ci sono i costi di, come dicono per certi altri, l'importatore... Del brand. Il brand, il blasone. Sintesis, qui lo conosciamo noi, ma non vedo che se tu vai in giro... Sai chi è la Sintesis? Boh... Pensano una medicina, Sintesis. Diciamo che George Clooney nella pubblicità non accende un Sintesis, ma accende un Macintosh. Diciamo che c'è questo aspetto folcloristico. Però veramente quei soldi, io quando lo comprai questo qui lo pagai credo 2.200, all'epoca costava di più. Sì, costava un figlio di più, poi... L'ho pagato tutto il suo prezzo. Ma non mi sono mai pentito, non è da dire ho speso 2.000 euro, chissà che... È un prodotto, come dicevo, che noi lo stravendiamo, lo continuiamo a vendere, per fortuna ci mantengono ancora per un po' di pezzi questo prezzo qua e tra l'altro usati, lì entra il commerciale che è in me, ogni tanto qualche duro torna, li rivediamo a 1.600, 1.650 usati quando sono tenuti benissimo. Se hanno magari un paio d'anni, non so che visto che le valvole sono sono un pochino più usurate di qua e di là, non so, si può andare a 1.400. Però voglio dire, il depreciamento è veramente minimo. Vorrei solo dire una cosa, se uno vuole rivalvolare questo oggetto, perché ritiene che le valvole siano... queste poi dureranno molto di più di quello che ti tieni questo oggetto in casa. 250 euro, compri quattro Tesla, mecciate, perché vanno mecciate una per una, e te le cambi, ti fai passare questo sfizio. Se poi vuoi anche rifare il BIAS, lo puoi fare qua. Però pensate che chi lo fa, deve comprare queste valvole, avrà un prezzo sicuramente migliore del mio, ma meno di 200 euro non credo che le spendi. Se tu devi spendere già a 200 euro per quattro valvole. Questi tre trasformatori non sono tre trasformatori che compri al supermercato, te li devi far avvolgere apposta. E non vanno avvolti, dici io faccio un avvolgimento, come viene, viene. No, vanno fatti in un certo modo per ridurre le capacità. Quindi questi due trasformatori, se te lo vai a far fare tu, meno di 200, 250 euro non te lo fa nessuno. Trasformatore audio. Poi c'è quest'altro trasformatore che è l'alimentazione, che ha una mezza dozzina di secondari, quattro condensatori, un telaio, connettori dorati. Andiamo a fare la spesa. Se lo faccio io mi costa di più. Sì, sì, quello è in dubbio. È quello che noi consigliamo sempre agli autocostruttori, no? È la prima cosa che diciamo. Se hai passione, ti piace farlo, è per te perché è un grande piacere. Io sono partito come autocostruttore, è un gusto incredibile costruirsi qualcosa. Però se lo fai per risparmiare o per coso, no, perché dopo lascia perdere perché i costi sono fogli. Guarda, con 2.900 euro, quello che costa di più, questo qui, con 2.900 euro, se te lo fai tu, rischi di spenderne di più. Ma veramente. Senza considerare naturalmente le ore che ci devi buttare. Quelle non valgono niente perché lo fai per passione. Ma insomma, qualcuno fa per mestiere. Una domanda da profano. Quello 2009, questo 2000. In termini di suono c'è la differenza? Sapete qual è la grossa differenza? A mio parere, ripeto, perché non ho lo schema né di questo né di quello. Io ho visto che ha cambiato alcune capacità, però senza lo schema non è che uno fa la sfera di cristallo. Cosa ha fatto il progettista? La sfera me lo dice. No. Però posso dire che questo, a me piace di più di questo qua. Se non avessi già questo, però insomma, diciamo che adesso... Per l'upgrade, cambia, prende quello. Ma adesso c'è in mente delle altre cose. C'è altre cose. Sempre un più di blu. C'è delle cose. Vabbè, lasciamo perdere. Questo sapete qual è il vantaggio grosso, secondo me, che ha cambiato marca di costruttore di valvole. Siccome probabilmente anche per un motivo, politico, avere le valvole dalla Russia è diventato difficile, queste Harmonix, lui ha montato delle Tesla, JJ Tesla, fatte in Slovacchia. La Slovacchia, la Tesla, ha ereditato i macchinari che aveva la General Electric in America. Li ha venduti, usati, un po' come la Vespa, no? La Vespa vecchia due tempi della Piaggio. L'hanno mandato tutti in India, hanno continuato a fare le Vespe per altri 20 anni. Ancora oggi le fanno in India, la Vespa di una volta. Con il macchinario della GE fanno queste valvole. Perché fare poi un tubo non è proprio una cosa semplice, no? Nel senso che la struttura interna della valvola, cioè come è fatta la griglia, come è fatta la placca, come è fatto il catodo, i materiali si usa, a parte i materiali che quelli, fare il vuoto completo internamente non è una cosa semplice neanche quella. Saldare il vetro su uno zoccolo di rame non è una cosa facile neanche quella. Ci vogliono delle macchine particolari. La Tesla ha preso pure la GE, quindi le Tesla possono essere considerate un po' delle NOS, no? Se vogliamo. Cioè new on stock, una valvola, come si faceva una volta, bene o male, ma come si faceva una volta. Mi ricordo anche che anche la Telefunken faceva delle ottime valvole. Come no? La Philips, la Minivatt, vi ricordate la Philips? I italiani che fanno valvole? Sì, c'era la Fivre. Fabbrica italiana, valvole, la Fivre. Ah, non sapevo che era italiana. Io riparavamo, mio padre riparava le vecchie radio. E allora avevamo la scatola con tutti i ricambi, no? La PCF80, le CC83, quelle per l'alta tensione, la DY87. Vi do delle sigle vere, potete andarle a vedere. Sono delle valvole che andavamo in giro per le case dei clienti, una volta c'erano i televisori, si cambiava la valvola, magari funzionava. E c'erano quelle della Fivre, c'erano quelle della GE, c'erano quelle, insomma, di valvole un pochino ne ho viste, no? A suo tempo. Per cui vi dico che poi non è così semplice fare un tubo, eh? Se uno si mette lì e facciamo i tubi. Solo per creare il vuoto lì dentro è una cosa veramente imbarazzante. Quindi, come suona la Tesla, secondo me, suona un po' meglio di quella lì. Sui trasformatori non credo che abbia cambiato niente, perché c'è scritto revisione A. Però penso che questa A sia solo perché ha aggiunto i connettori. No, anche i lamierini ce la discute. Qui sono saldati, una scelta, qui sono con i connettori. Lui chiama revisione A. Non credo che abbia cambiato, perché cambiare un trasformatore, una volta che hai trovato per quella valvola, quel trasformatore, fare le invenzioni, non conviene più. Per cui ritengo che li ha fatti una volta, li ha fatti bene. E ripeto, i trasformatori audio non sono come quelli a 50 Hz, no? Come li avvolgi, li avvolgi, basta che esce quella tensione e festa finita. Devi avere una reattanza, una capacità, un'induttanza controllate, quindi gli avvolgimenti vanno incrociati in qualche modo. I nuclei sono di una ferrite particolare. Non puoi usare il ferro e basta, quelli A. E, no? Che li metti insieme, chiudi, fai il pacco e via che vai. Devi usare delle ferriti particolari che costano. Ecco perché dico quel trasformatore costa almeno 200 euro, ma non perché l'ho inventato stanotte, perché so cosa vuol dire fare un trasformatore. Quando facevi il progettista, il costo dei trasformatori, negli alimentatori switching, in tutte quelle cose lì dove c'è poi l'effetto pelle, c'è il porco di Giuda da considerare. Allora, quando tu andavi da Sgubi a Imola a farti avvolgere un trasformatore, quello ti diceva, minimo, facciamo il prezzo così, no? 300 euro. Eh, no, Sgubi qua, tira e molla. Però sotto i 200 non ci scendevi. Ma perché aveva ragione anche lui? Perché doveva mettere materiali di prima qualità. Soprattutto negli alimentatori switching. Una cosa molto bella che c'aveva, adesso faccio un'ultima parentesi, poi mi taccio, il short. Io una volta presi il short qui, che c'ha una particolarità che non raddrizza la 50 hertz e fa la continua. C'ha un SMS, un SMS, che è un switch mode in ingresso, che commuta a 200 kHz, no? Che fa l'alimentazione dell'amplificatore. Cosa vuol dire? Che avendo una frequenza di commutazione così alta, trasformatori piccoli. Perché lavora a una frequenza molto più alta, quindi i trasformatori diventano piccoli, ma diventano molto più importanti in questo discorso. E l'alimentatore switching ti consente, quando ti chiede il basso, ti chiede corrente, di reagire istantaneamente. Quindi anche condensatori piccoli. Andando su in frequenza, il short suonava da Dio. Ma solo per quello, secondo me, perché poi alla fine c'aveva i transistor come tutti gli altri. Io direi che per oggi abbiamo fatto una bella diretta, ma questo è un altro prodotto che produce, sì, assolutamente, che produce sintesis, è il soprano. Il famoso CD suo, sai che c'ha le valvole? Sì, ha valvole, sì, sì. Noi chiudiamo la diretta facendo, l'abbiamo lasciato per la fine, ovviamente gli auguri a Ruffoni, che è arrivato alla veneranda età di 71 anni, ancora in forma, bello vispo, e guizzante. Va bene, speriamo, buon Dio. Auguri. Va bene. Spero sia piaciuto, anche questa volta vi ringraziamo, io che continuo sempre a ringraziarvi perché, ragazzi, venite qua, ma le mogli, le mogli che ci dicono, mio marito guarda più voi che le veline, no? No, così. Beh, insomma, è il discorso della velina bionda e quella mora, che dicevamo prima, a me la bionda non piace. Noi siamo l'amora, cioè così. Da quel che vedo sono tutte grigie le veline. Siamo molto grigie, noi vi ringraziamo, siete tanti, siamo quasi diventati una grande famiglia, infatti quando entrate, ciao, 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 ci seguo, e noi ci fa molto piacere, continuate a seguirci. Arrivederci. Ciao, 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 ciao.